Sono oltre 100 le aziende presenti alla ventitresima edizione di Io Lavoro, la più grande job fair italiana con oltre 7500 offerte in tutti i settori. Decine gli incontri previsti tra workshop, lavoratori e seminari con l'obiettivo di favorire l'incrocio tra domande e offerta nel mondo del lavoro. Agevolare la selezione del personale da parte delle imprese, valorizzare le competenze di ogni persona e favorire la ricerca attiva di uno sblocco professionale. Oltre a offrire un accesso facilitato ai servizi dedicati all'autoimprenditorialità della regione Piemonte. Stiamo sviluppando chiaramente sempre di più un'unificazione tra le varie politiche attive del lavoro. Noi ereditiamo storicamente i centri per l'impiego, quindi abbiamo unito quella che era la metodologia di lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro organizzando Io Lavoro con il pezzo dei centri per l'impiego che ci portano a essere ancora più forti nella soluzione della relazione tra domande e offerta di lavoro. Quindi è molto forte quel tipo di scelta che abbiamo fatto. All'interno di Io Lavoro abbiamo WorkSkill, quindi parliamo anche di formazione professionale di eccellenza della formazione professionale in Piemonte. Questo proprio per valorizzare un percorso che accoglie la persona dalla formazione fino alla ricerca attiva del lavoro, fino a speriamo la collocazione. Puntiamo decisamente alla concretezza, puntiamo al pragmatismo, puntiamo di conseguenza oggi a far incontrare il mondo che produce e che quindi ha domanda di lavoro rispetto ai nostri giovani che stanno cercando un lavoro, giovani e non solo. Nello stesso tempo lavoriamo anche tantissimo sull'orientamento perché oggi il compito di momenti come questo è quello di spiegare ai ragazzi che oggi il lavoro in Italia e in Piemonte c'è, semplicemente è cambiato, bisogna formare delle nuove figure professionali e di conseguenza dobbiamo aiutare i nostri giovani a capire rispetto alle loro attitudini che vanno assolutamente valorizzate qual è il percorso migliore per trovare lavoro. Ricordiamo qua c'è un B2B, un incontro diretto tra le aziende, i formatori e quelli che sono i ragazzi, quanto è importante questa formula? Anche in maniera retrospettiva guardando indietro è una formula di successo? Io penso di sì, è assolutamente una forma di soggetto, in pratica la persona si mette forse per la prima volta in alcuni casi in relazione con le aziende, magari prima mandava un curriculum, manda una proposta, non viene richiamato, quindi subisce anche delle frustrazioni, qui invece la relazione è diretta, qui c'è la possibilità di incontrare dal vero, di mettersi anche in situazione, di provare effettivamente cosa vuol dire anche un colloquio di lavoro. È una cosa molto interessante, stiamo sperimentando varie attività, qui non lo facciamo ancora, ma per esempio in alcuni io lavoro territoriali, abbiamo anche fatto le simulazioni con le aziende rispetto dei colloqui di lavoro. Per i giovani è molto importante, spesso anche dei piccoli sembrano consigli nella relazione quando si va a cercare un posto di lavoro possono migliorare la tua opportunità di trovare lavoro stesso.